Ciao amici, sono contenta che le donne curvi siano sempre più apprezzate, perché non è scritto da nessuna parte che magro è necessariamente bello. Solo i media hanno imposto questo modello e invece anche le curve hanno il loro fascino. È vero, le curve sono sexy. L'importante è essere in forma, anche con le curve morbide. Ecco un decalogo per essere sempre al top, super toniche anche se super curvi. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Movimento, attività fisica regolare, anche solo camminare ma a passo svelto e per 45 minuti. 2. Obiettivi, stabilire degli obiettivi e fare di tutto per raggiungerli. Per esempio, trovare un'alimentazione che non gonfi la pancia e tolga quella tensione addominale. 3. Mantenimento, raggiunti gli obiettivi bisogna mantenerli nel tempo, per esempio non ingrassare di più. 4. Masticazione, masticare lentamente fa rimanere sazi per più tempo e aiuta la digestione. 5. Cibo, distribuire il cibo in modo ordinato in 4-5 pasti al giorno, non troppo abbondanti ma nemmeno troppo scarsi con l'idea di dimagrire, altrimenti si ottiene il contrario. 6. Alcol, l'alcol riduce lo smaltimento dei grassi di riserva, quindi anche per questo è da evitare. 7. Pasta e pane, non vanno eliminati del tutto ma assunti integrali e in piccole porzioni insieme a proteine e verdure. 8. Olio, non eliminare gli oli e i grassi, piuttosto condire con massimo un cucchiaio di olio per pasto. 9. Pesce, mangiare pesce due volte a settimana è fondamentale per il giusto apporto di omega 3 e proteine magre ben bilanciate. 10. Frutta e verdura, la verdura può essere consumata senza limiti, cotta, cruda, in tutte le forme, invece la frutta va limitata per non assumere troppi zuccheri, al massimo 3 frutti al giorno come spuntino. Per essere più tonici di solito basta perdere il 10% del peso iniziale e raggiunto questo traguardo sarà più semplice continuare a mangiare in modo sano, così il dimagrimento e la tonificazione sono una naturale conseguenza e non un chiodo fisso che fa vivere male a tavola, sulla bilancia e nella vita di ogni giorno. Quando mente e corpo sono in armonia si procede con più determinazione e positività. Per vedere tanti altri video sulle migliori strategie naturali è facile, basta iscriversi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Vivi consapevole e vivi meglio! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri e ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!